L.I. Duchessa di C.O.R.N.W.A.L.L. si impegna più di qualsiasi altro reale per conquistare il pubblico secondo il commentatore reale Omid Scovie, scrivendo su Twitter, ha dichiarato, i membri della famiglia reale che hanno alleati mediatici non è una novità, ma Camilla si è impegnata più di ogni altra quando si tratta di conquistare la stampa britannica, anche se ha significato tenerne alcuni estremamente vicino. Nel suo blog per Yahoo, Omid ha raccontato come le opinioni del pubblico sulla duchessa di Cornovaglia siano state fortemente influenzate dai social media e dalla popolare serie di Netflix The Crown. Secondo un recente sondaggio su YouGov, solo il 14% degli inglesi è favorevole a che Camilla venga nominata regina consorte, la storia della sua relazione con il principe Carlo è stata un punto di discussione per anni e con The Crown che ha rievocato la controversa relazione, molti si sono rivolti contro Camilla. The Crown si concentra sulla relazione di Camilla e Charles alle spalle dell'allora moglie, la principessa Diana, mentre combatteva problemi di salute mentale dietro le quinte. E secondo Omid, la più grande battaglia della duchessa è con le nuove generazioni, poiché piattaforme. Video come TikTok confrontano la vita, la moda e l'eredità di Camilla con quella di Diana. Sembra esserci un sostegno schiacciante per la madre del principe Harry e del principe William, la defunta principessa del Galles, tragicamente morta in un incidente d'auto nel 1997, con un'altra stagione di The Crown che andrà in onda quest'anno, la popolarità di Camilla potrebbe subire ancora un altro colpo. Scrivendo per Yahoo. Omid ha dichiarato, la sua rappresentazione di Parker Bowles come un'adultera fumatrice accanita e l'attenzione costante sui tre di noi in questo matrimonio di Diana hanno reintrodotto una storia durante la quale molti seguaci non erano nemmeno vivi. C'è un'altra stagione in arrivo entro la fine dell'anno. Ma secondo il biografo di Meghan Markle, Camilla si è impegnata ancora di più per superare questa svolta negativa, con Omid che scrive, quella netta differenza tra stampa e opinione pubblica è il risultato di una spinta PR dietro le quinte attentamente orchestrata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.